Si Ma come fa la concetta? Adesso è un attributo della Madonna Si vede che è un attributo come tutti gli altri, come Maria Vergine. Sorella, presentiamo gli attributi della Madonna. Maria Vergine. Maria Buona. Maria Santa. Immacolata. Senza peccato. Concetta. Chi è la mamma? Maria Concello. Slam, 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 slam. Sì, bra... Sì, bra... Sì, bra... Sì, bra...